Allora ci alziamo e incominciamo con la preghiera. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, ancora una volta invochiamo lo Spirito Santo perché ci illumini, riscaldi i nostri cuori, li renda disponibili a penetrare nel mistero santo della liturgia. E questa volta lo recitiamo alternandoci tra solista e assemblea. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Madre dei cuori, vieni la tua religione, vieni tu se ne fuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina. Dona i tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona il tuo premio, dona mortis, dona gioia eterna, amici. Chiediamo ancora alla Vergine Maria il dono della pace. Ave o Maria piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amico. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, amico. Avete preso tutti la Sacro Santo e un concilio? Ok, allora lo dico, lì avanzano. Per quanto riguarda questa Costituzione sulla Sacra Liturgia del Concilio Ecumenico Vaticano II Allora, è importante che ce l'abbiate tutti. Se poi qualcuno la vuol portare a casa e quindi diventa sua, vi chiedo, almeno chi se la sente, di dare 2 euro, costa 2,50. Mi facciamo lo sconto, va bene. Mentre invece, se qualcuno è interessato, alla fine la lascia qui e così la mettiamo a disposizione per le volte prossime. D'accordo. Avete notato che l'incontro di questa sera si intitola così La liturgia culmine e fonte della vita della Chiesa Il rapporto tra liturgia e vita Io gradirei partire dal farvi fare un piccolo confronto a due, a due così come siete E fate un piccolo confronto su questa affermazione Vanno a messa, ma poi sono peggio degli altri Ecco, quello che vi chiedo, ho provato a confrontarvi Dicendo che reazione vi suscita un'affermazione di questo tipo No, 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 la siamo perdita, non devi dirlo Prima di confrontare Va bene Quale reazione Quale giudizio date di un'affermazione di questo tipo Allora, vi lascio tre minuti, quattro minuti Così, a due a due, ecco, tu puoi parlare con lei Vi confrontate e poi sentiamo qualche risposta Va bene Don Alberto può mettersi insieme in tre Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ecco, vi siete confrontati Allora, chi è che vuole incominciare a dire qualcosa? Io penso che Che si vada a messa o meno Non c'è differenza Nel senso che uno può comportarsi bene o male indipendentemente Però, chi dice Chi va a messa peggio di chi non ci va È perché trova la scusa per non andarci Perché pensa Dico che sono peggio loro e me ne sto a casa Tutto lì Quindi sarebbe per scusarsi Nel confronto abbiamo detto che è una frase da bar Cioè di poco valore Poco valore Ok Ci si aspetta sempre che comunque chi partecipa alla messa Almeno tenti di migliorarsi Dal mio punto di vista personale Penso che siamo tutti peccatori in conversione Per cui potrebbe anche essere Che davvero Ci siano delle controtestimonianze da parte nostra E alcune volte magari possono anche essere giustificate I commenti Però danno fastidio Altre? Tu ti sei confrontato Sì, eravamo tre Avanti Sì Ditemi se non ho detto Allora abbiamo detto Il giudice vero è Dio Allora nessuno Non può giudicare l'altro Perché vai alla messa è peggio E poi c'è una parola Nell'omelia di Don Davide ha detto Tra tutte le parole Noi dobbiamo fare riferenza alla parola E c'è una parola di Dio che dice Gesù diceva così Io non sono venuto per i sani Però per gli ammalati, i peccatori Allora chi vai alla messa Forse chi è malato E' peccatore Però vai a cercare la guarigione Grazie Ok, altre? Si condivide Si condivide, sì, sì Ah, ok Secondo noi Chi lo dice è per giustificare Per giustificarsi Che non vanno a messa Ok Altre Cosa dice la professoressa? No, io ero con Son Claudia e Don E lui ha già espresso il parere Ah, ho capito No, allora A parte la battuta di Don Alberto Si diceva E' uscito fuori la questione Della giustificazione da parte di chi lo dice C'è anche il discorso che Siamo sottoposti ad uno standard di valutazione Magari un po' più alto Perché ci si aspetterebbe Determinati comportamenti che magari Non ci sono Personalmente Credo che E' vero C'è una componente di giustificazione Ma se lo dicono Lo dicono in tanti E lo dicono da molto tempo Forse Un piccolo esame di coscienza Ce lo dobbiamo fare anche noi Anche perché a volte Siamo noi i primi A non trovarci bene Nella nostra comunità Ok C'è ancora qualcun'altro? No, non vorrei togliere la parola Cosa dice Porziano? Io condivido quello che dice Stefania Perché tante volte anche mio marito mi dice Che siete appena andati a mezzo Ah Vedi? 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 Bene Non siamo desenti Non sono desenti Allora Siamo partiti da questo confronto Così molto veloce Senza bisogno di pensarci più di tanto Eventualmente La stessa affermazione La riprendiamo alla fine Per vedere Se in questa affermazione Forse C'è anche qualcosa Che vale la pena Di prendere Effettivamente In considerazione Allora innanzitutto Dopo Questo piccolo confronto Dobbiamo fare riferimento Al numero 9 Della Sacro Santo Un Concilio Numero 9 Pagina 8 Vi ricordate che la volta scorsa Abbiamo preso in considerazione Più o meno i primi otto numeri Oggi Prenderemo in considerazione Dal 9 Al 13 Il testo dice La Sacra Liturgia Non esaurisce Tutta L'azione Della Chiesa Infatti Prima Che gli uomini Possano accostarsi La liturgia Bisogna che siano chiamati Alla fede E alla conversione Come potrebbero invocare Colui nel quale Non hanno creduto E come potrebbero Credere in colui Che non hanno udito E come lo potrebbero udire Senza chi predichi E come predicherebbero Senza essere stati mandati Per questo motivo La Chiesa annuncia Il messaggio della salvezza A coloro che ancora Non credono Affinché tutti gli uomini Conoscono L'unico vero Dio E il suo inviato Gesù Cristo E cambiano La loro condotta Facendo penitenza Ai credenti Poi Essa Ha sempre il dovere Di predicare La fede E la penitenza Deve inoltre Disporli Ai sacramenti Insegnerli Lui ad osservare Tutto ciò che Cristo Ci ha comandato Ed incitarli A tutte le opere Di carità Di pietà E di apostolato Per manifestare Attraverso queste opere Che i seguaci di Cristo Pur non essendo Di questo mondo Sono tuttavia La luce del mondo E rendono gloria Al Padre Dinanzi Agli uomini Ecco Un'affermazione Molto chiara Molto importante Quella che troviamo Proprio all'inizio La sacra liturgia Non esaurisce Tutta l'azione Della chiesa Per dire quindi Che la liturgia Non è tutto La liturgia Vedremo Quale importanza Abbia Per cui si dice La liturgia Non esaurisce La azione Della chiesa Quindi vuol dire Che la chiesa Deve fare anche Qualcosa d'altro Una comunità cristiana Che si limitasse Soltanto A cercare la liturgia Non è Secondo appunto Questa prospettiva Lo stesso discorso Come potete vedere Immediatamente Lì accanto Lo potete trovare Anche al numero 12 Al numero 12 Dice La vita spirituale Tuttavia Non si esaurisce Nella partecipazione Alla sola liturgia Quindi quando qualcuno dice Sono andato a messa Sono apposto E Ci tratta di capirci Però di per sé C'è ancora Tutta una vita Che deve essere poi Effettivamente Vissuta Cristianamente E Allora proprio per questo Se avete notato Il testo Al numero 9 Ci aiuta a capire Quali sono Le altre Attività Che sono importanti Per la vita Ecclesiale O tra parenti Quando parliamo di chiesa Attentamente Che noi intendiamo I preti Cioè La chiesa È il popolo di Dio È con la distinzione È Delle Delle vocazioni Dei ministeri Però è tutto Il popolo di Dio Nella scanso di equivoce Quindi Non pensiamo solo Ai preti Ai vescovi Al papa Ecco Il Vaticano secondo Per chiesa Intende ovviamente Tutto il popolo di Dio Con la distinzione Di vari ministeri Delle varie vocazioni Che Lo costituiscono E avete notato Che dice che La prima Azione Che la chiesa Compie Diciamo Per il momento Al di là Della liturgia Anche se poi vedremo Che non è poi così Al di là E Esattamente Quello Di annunciare La parola di Dio L'evangelizzazione E ci dà quindi Un primato Tra le varie attività Che la chiesa Compie Oltre all'azione liturgica Un primato Ce l'ha L'evangelizzazione E infatti Dice Infatti Prima che gli uomini Possano accostarsi Alla liturgia Bisogna che siano Chiamati alla fede Alla conversione Questo ci dice Una cosa importante E cioè Che la liturgia Fatta per i credenti La liturgia È fatta Per i credenti Non è fatta Per quelli Che non credono Quindi Quando ad esempio Si dice Oggi La gente Ha perso la fede Non ha più la fede Poi quando dobbiamo fare qualcosa Facciamo la messa Beh Forse Bisogna fare qualcosa Altro Se L'affermazione Non hanno più la fede È vera Perché se effettivamente Non hanno più la fede Bisogna fare qualcosa D'altro Per il fatto Che qui dice Prima che gli uomini Possano accostarsi Alla liturgia Bisogna che siano Chiamati Alla fede E Li cita Poi Romani Dieci Dove appunto L'apostolo Paolo E Dice Come potrebbero Pregare Dio E Se Non gli hanno creduto E come potrebbero credere Senza aver udito E come lo potrebbero dire Senza che predichi E poi Tentimene Qui non è citato Ma l'apostolo Paolo Dice La fede Nasce quindi Dall'ascolto Della parola di Cristo E cioè E l'annuncio È che genera la fede Attentimene che l'apostolo Paolo Dice Io vi ho generati Mediante la parola Che vi ho annunciato E lui Dice di avere Una paternità Nei confronti Dei cristiani Di Corinto Perché dice Io vi ho generati Non dice immediatamente Col battesimo Ma dice Vi ho generati Con l'annuncio Della parola Con il Vangelo Quindi È vero La fede È legata Indubbiamente Oh Attentimene Sto parlando Di fede cristiana Non sto parlando Di una fede generica O di una religiosità Qualsiasi Sto parlando Di fede cristiana Perché la fede cristiana È come oggetto Gesù Cristo E quindi È ovvio Che Se mai Sentito parlare Gesù Cristo Non l'hai accolto Non puoi avere La fede cristiana O attenti bene Questo non vuol dire Che allora Quelli che non hanno Una fede cristiana Esplicita Non possono salvarsi Questo è un altro discorso Stiamo però dicendo Che La partecipazione Alla liturgia Esige effettivamente Che uno Prima Giunga Alla fede Vedremo poi Perché lo dice Che In realtà Questo è soltanto Un aspetto Della questione Nel senso È che La liturgia E se volete In modo particolare Per essere ancora più chiari La partecipazione I sacramenti Tutti Esige quindi Potremmo dire Una certa fede cristiana Non esige La fede cristiana Perfetta Per il fatto Che un frutto Delle celebrazioni Sacramentali In modo particolare Della celebrazione Eucharistica È proprio quello Di far crescere La fede E quando noi Partecipiamo All'incontro con Cristo Riceviamo come dono Questo crescere Nella fede Nella speranza Nella carità Cioè C'è effettivamente Un dono Efficace Che viene Dalla partecipazione Però Se manca Completamente La fede Ripeto Ecco che Non si può Partecipare Alla liturgia Va bene Non si può partecipare Dopo noi Non buttiamo fuori nessuno Però diciamo Non si può partecipare Con frutto Perché dopo Uno se vuole andare Allo spettatore Vediamo cosa fa Questo è un altro discorso Va bene E quindi Ecco perché Il primato Venne dato All'annuncio Tra le altre attività Che la Chiesa compie C'è l'annuncio E se avete notato Dice però Che l'annuncio Non è Riferito soltanto Ai non credenti Ma anche i credenti Ed infatti dice Per questo Secondo paragrafo Per questo motivo La Chiesa Annuncia il messaggio E la salvezza A coloro Che ancora Non credono Ecco il primo Caso Affinché tutti Gli uomini Conoscono L'unico Vero Dio E il suo Inviato Gesù Cristo E cambino La loro condotta Facendo penitenza E poi c'è invece Il secondo gruppo Di destinatari Dell'annuncio Ai credenti Poi Quindi prima Non credenti Poi ai credenti E poi E poi Essa Che ha come scopo Che ha come scopo Di generare O accrescere Ecco la catechesi Insegnare Loro ciò Che Cristo Ci ha comandato E poi dice Incitarli E questa è un'altra cosa A tutte le opere Di carità Di pietà E di apostolato E quindi Qui ti sta dicendo E che Oltre All'azione Liturgica All'azione Di evangelizzazione Di catechesi Di formazione E c'è anche L'azione Che Dice riferimento In modo particolare Alla carità Alle opere Di pietà E di apostolato E Tentimene Che opere Di pietà Qui in questo contesto Sono andato a vedere Non c'è una spiegazione Specifica Non sembra Riferito Alla preghiera Ma le opere Di pietà Sono le opere Di misericordia Va bene E quindi Sono queste altre Attività Attività caritativa Attività Di misericordia E poi Dice anche L'apostolato L'apostolato Un termine Un po' generico Per dire fondamentalmente Tutto ciò Che la Chiesa Attraverso i cristiani Compie Per dare testimonianza Al Vangelo Per diffondere Il Vangelo Fondamentalmente Quindi anche Il fatto Che sul lavoro Incontro una persona E gli dico Sai che domenica Sono stato ammessa Mi ha colpito Questa cosa Ecco E questa è una forma Di apostolato Oltre Che Che ne so io Andare A visitare le famiglie Fare le missioni Sono tutte opere Diciamo così Di apostolato E poi La motivazione Per manifestare Attraverso queste opere Che i seguaci di Cristo Pur non essendo Di questo mondo Sono tuttavia La luce del mondo E rendono gloria Al padre Dinanzi Agli uomini Quindi Ecco Avete notato Che qui Si incomincia a dire La liturgia Non esaurisce Tutta l'azione Della Chiesa Perché compito Della Chiesa Come comunità E come singoli Credenti E anche quello Di annunciare Il Vangelo L'evangelizzazione E In forma ovviamente Diverso Ai non credenti E ai credenti Altre attività È quello Di Aiutare I credenti Ad approfondire La loro fede Attraverso La catechesi Preparare I sacramenti Così pure Altre attività Sono Le opere Di carità Di misericordia E le varie opere Di apostolato Avete notato Che di per sé Qui in questo contesto Non sembra Fare riferimento A quelle altre azioni Che potremmo dire Riguardano L'ambito Della preghiera La liturgia Non è l'unica Forma di preghiera E Difatti Ecco che Al numero 12 Al numero 12 E al numero 13 Dice riferimento Ad altri aspetti Ad altre azioni Che In qualche maniera Rientrano Tra ciò Che un cristiano E quindi anche La comunità cristiana È chiamata A fare Per quelli Che hanno già La fede E di fatti Il numero 12 Dice La vita Spirituale Tuttavia Non si esaurisce Nella partecipazione Alla sola Liturgia Quindi cos'è Che Di che cosa C'è bisogno Oltre la liturgia Dice Il cristiano Infatti Benché chiamato La preghiera comune E qui La preghiera comune Non è solo la liturgia Ma anche quando Ad esempio Ci troviamo A fare una preghiera comune Che ne so Facciamo la liturgia Facciamo Liturgia Dice È sempre tenuto A entrare Nella propria stanza Per pregare Il padre In segreto Anzi Secondo l'insegnamento Dell'apostolo È tenuto a pregare Incessantemente Quindi Dice Che bisogna Anche fare spazio Ad altre forme Di preghiera Che non è Semplicemente La liturgia L'apostolo Ci insegna Anche a portare Continuamente Nel nostro corpo I padimenti di Cristo morente Affinché anche La vita di Gesù Si manifeste Nella nostra carne Mortale Per questo Nel sacrificio Della Messa Preghiamo il Signore Che accettando L'offerta Del sacrificio Spirituale Faccia di noi Stessi Una offerta Eterna E qui Interessante Perché se avete notato Per vita Spirituale Non intendo Soltanto Preghiera Liturgia E preghiera Perché a volte Noi per vita Spirituale Pensiamo subito Alla preghiera E qui Dice che Tutta l'esistenza Dovrebbe diventare Un sacrificio Spirituale Gradito a Dio Che portiamo Alla Messa E da lì Poi Appunto Noi Otteniamo La grazia Per far sì Che la vita Cristiana Diventi Offerta Gradita a Dio E si chiamano Tentimene Questa cosa Sacrificio Spirituale E cioè E praticamente Il dono Che nello Spirito Santo Noi siamo in grado Di fare di noi stessi A Dio Tutta la vita Vissuta Come Offerta Gradita a Dio Allora E quando vado in banca E devo mettere a posto Un gruzzoletto Di soldi Io dovrei dire Ma per fare un sacrificio Gradito a Dio Qui cosa devo fare A volte secondo me Torneremo indietro E dico ma forse Anziché investirli così Forse potrei anche Farne qualcosa D'altro Che ne so Darlo ai poveri Questo vuol dire Allora Vuol dire che io Ascolto Quello che il Signore Mi sta dicendo In quel momento E sacrifico Effettivamente Quello che in quel momento Mi piacerebbe Ma forse Non è esattamente Quello che piace Al Signore La stessa cosa Tenti bene Vale nelle scelte affettive Nelle scelte politiche E perché Tenti bene Che la fede C'entra dappertutto Quando qualcuno Vi dice Che nella politica La fede non c'entra È la più grande palla Che ci sia Se mi dite Che la fede Non si identifica Con un partito Vi do pienamente ragione Ma che la fede Non c'entri Nella politica Questo è falso Perché la fede Visto E che è Un'impostazione Della vita Che tu Non vivi più Per te stesso Ma insieme con Cristo E alla luce Della sua parola Questo devi illuminare Tutte le tue scelte Tutte Va bene E questa si chiama Vita spirituale Cioè vita vissuta Nello spirito Di Cristo Questo è molto bello Perché invece C'è un po' La tendenza A identificare La vita spirituale Semplicemente Appunto Con la Preghiera Ecco Avete notato Quindi Questa sottolineatura E perché Gli uomini Possono accostarsi C'è una liturgia Bisogna prima Che siano chiamati Alla fede E c'è questo primato Della fede O butto lì Al numero Tredici Viene presentato Poi Potremmo dire Un altro aspetto Dell'attività Della chiesa E ripeto Come chiesa Intendo dire Anche Appunto I singoli Credenti E parla di Pi esercizi E i pi esercizi In un documento Posteriore Sono stati Identificati Praticamente Con La Pietà popolare Quindi i pi esercizi Sono Le processioni Se volete Il rosario Ecco Quelle che Diciamo così Le tante forme Di preghiere Che facciamo Senza Essere Appunto Liturgia Dice I pi esercizi Siamo al numero Tredici I pi esercizi Del popolo Cristiano Purchassino Conformi Le leggi Alle norme Della chiesa Sono Vivamente Raccomandati Soprattutto Quando si compiono Per mandato Della sede Apostolica E Di speciale Dignità Godono Anche Quei sacri Esercizi Delle chiese Particolari Che Sono Specifici Di una Diocesi Ad esempio Ci sono Delle processioni Che si è tipica Di una Diocesi E va bene Poi dice Bisogna però Che tali esercizi Siano regolati Tenendo conto Dei tempi Liturgici E in qualche Pratiche Pratiche di pietà Che non sono Ripeto Necessariamente Liturgia E qui dice In modo da Armonizzarsi Con la Liturgia Derivino In qualche Modo Da essa Ad esse Introducono Il popolo Cristiano Dal momento Che la Liturgia È per natura Sua Di gran Lunga Superiore Ai più Esercizi E così Siamo introdotti A un altro Passaggio Dopo aver visto Che la Liturgia Non esaurisce Tutta l'azione Della Chiesa Abbiamo visto Quali altre Azioni Sono importanti Ci possono essere Adesso Più specificamente Ci domandiamo Che rapporto C'è Tra la Liturgia E le altre Azioni Ecclesiali Ecco Se permettete Soprattutto Le altre Azioni Ecclesiali E quindi Anche Personali Dal punto Di vista Diciamo così Della preghiera Non soltanto Però soprattutto Perché qui Il discorso È un po' Più semplice E più chiaro E corrispondendo Quale rapporto Potremmo parlare Di un rapporto Di differenza E correlazione Differenza E correlazione Ecco È importante Mantenere Questi due aspetti Perché se non Manteniamo la differenza Confondiamo Quello che è più importante Con quello che è meno importante È importante Affermare Che c'è una differenza E tra ciò che è liturgia E ciò che non è liturgia D'accordo? E nello stesso tempo Però Correlazione Ecco Adesso Vediamo un po' Questi due aspetti Allora innanzitutto La differenza La differenza È Ribadita Come Avete potuto notare È proprio La fine del numero 13 Perché dice Che la liturgia Per sua natura È di gran lunga Superiore Ai più esercizi E quindi Vuol dire che c'è una differenza Tra la liturgia E gli altri più esercizi Gli altri valgono di meno Va bene? In concreto Valgono di meno E al numero Al numero 7 L'avevamo già visto La volta scorsa Vedete Alla fine Del numero 7 Perciò Ogni celebrazione Liturgica In quanto Opera di Cristo Sacerdote Del suo corpo Che è la Chiesa È azione Sacra Per eccellenza E nessun'altra Azione Della Chiesa Nessuna Di quelle azioni Che abbiamo citato Adesso Ne Uguaglia L'efficacia Allo stesso titolo E allo stesso grado Quindi Non hanno la stessa importanza Non hanno La stessa Efficacia È importante Che ci chiediamo Per quale motivo E allora Il primo motivo È costituito Lo dice Anche qui Dal fatto Che la celebrazione Liturgica È Opera Di Cristo Sacerdote E della Chiesa Opera Di Cristo Sacerdote Del suo corpo Che è la Chiesa La stessa cosa Non si può dire Degli altri Pi esercizi Delle altre forme Di preghiera Questa è una prima Differenza importante E Quando noi Celebriamo Ad esempio L'Eucaristia E Effettivamente E poi vi dico Anche il resto E Allora Prima di tutto Accogliamo il dono Di Dio Attraverso Cristo Ma poi Rendiamo grazie A Dio E rendiamo grazie A Dio Per Cristo Con Cristo E in Cristo E quindi Vuol dire che La comunità Cristiana Insieme con Cristo Per Cristo In Cristo E Appunto Dà lode A te Dio Padre Onnipotente Ogni onore E gloria E quindi Nella celebrazione liturgica Abbiamo a che fare Con un'azione E dove E Insieme con noi La gente È Gesù Cristo Colui che agisce Anzi Per certi versi È il primo Tra virgolette Attore E questo Implica Una presenza Reale Tutto speciale Di Cristo Nella celebrazione Liturgica Cioè È effettivamente Presente Tantimene che è presente Anche nella parola di Dio Non sto dicendo Però qui c'è una presenza Appunto Particolare In modo Soprattutto Speciale Nell'Eucaristia Quando addirittura C'è il cambiamento Del pane Nel suo corpo E del vino Nel suo sangue Questo è il massimo Di questa presenza Speciale Possiamo aggiungere Anche un altro motivo Che ci permette Di completare il discorso E cioè Perché la liturgia Ecco che è di gran lungo Superiore E ha una Efficacia Superiore Per il fatto che Posso esprimermi così La liturgia Come dicevamo prima Non è Semplicemente Una azione Dell'uomo Ma è Una azione Che Porta con sé Questo intervento Di Dio E noi dicevamo Anche la volta scorsa Nelle celebrazioni Sacramentali C'è questa presenza Di Cristo Che opera Attraverso Lo strumento Della Chiesa A tal punto Che Quando uno Battezza È Cristo Che battezza E quando uno Perdona È Cristo Che perdona Cioè che cosa vuol dire Vuol dire Che non siamo di fronte A una preghiera Semplicemente Di tipo Soggettivo E la preghiera Potremmo dire Personale Che è molto importante Però fondamentalmente Esprime Il mio desiderio Di rapportarmi A Dio Che cosa manca La garanzia Che ci sia Il movimento Contrario Discendente Con la preghiera Personale Cerchiamo di Avvicinarci a Dio E anche Nella liturgia Ma prima di tutto Noi Nella liturgia Accogliamo Il Dio Che viene in mezzo A noi E quindi c'è Una dimensione Discendente Non solo Ascendente E questo cosa vuol dire Vuol dire Che La celebrazione Liturgica Per certi versi Potremmo esprimere così Ecco che realizza qualcosa Che avviene Al di là delle capacità E della bontà umana Dicevamo prima E certo La celebrazione liturgica Esige la fede Va bene I sacramenti Esigono la fede Almeno una certa fede Anche se non sarà perfetta Però A differenza Degli altri esercizi Di pietà Dove fondamentalmente Il valore Della tua preghiera È legata Potremmo dire Proprio Alla tua disposizione E vale In proporzione Della tua disposizione In proporzione Della tua santità Nella celebrazione Sacramentale Invece Ecco che Anche se non hai La fede perfetta La disposizione Perfetta Questo intervento Di Dio Che ti usa Misericordia Fa sì che Anche se non hai Le disposizioni Perfette Comunque tu possa Beneficiare Della salvezza Di Dio Avete capito? In questo senso Ha una Efficacia Maggiore Ma perché Appunto Prima di tutto Fa spazio All'azione Misericordiosa Di Dio Nei nostri confronti Le altre pratiche Di pietà Invece Dicono più In riferimento Alla tua Situazione Personale E quindi Hanno valore Però Tenti bene Che possono avere Maggiore O minore Efficacia In base Al tuo Stato di santità Al tuo La tua Bella disposizione Eccetera Tanto è vero Che non so Se avete sentito Mai Secondo anche qui Il catechismo Di San Pio Deci Per ottenere Il perdono Dei peccati Nel caso Che non sia possibile Accostarsi Alla confessione Peccati gravi Non i peccati Veniali C'è un modo Per ricevere Il perdono Di Dio Anche senza La possibilità Di accostarsi Alla confessione Se catechismo Ampio decimo Sì Quando c'è Il dolore Perfetto Avete notato Dolore Perfetto Mentre invece Se ci accostiamo Alla sacra Confessione E il dolore Non è proprio Così perfetto Però Siamo contenti Che il Signore Ci perdone Che ci aiuti E poi No diciamo Però non so se non lo farò più Adesso lascia perdere Intanto Ti dispiace Che hai fatto questo Sì Va bene Allora Adesso non ti cominciare a dire Però Adesso intanto Godi Ecco vedete Che qui puoi Ottenere Il perdono Sacramentale In questo caso Di Dio Anche se non hai Il dolore perfetto Cioè È una specie di Aiuto supplementare Che nella liturgia Dio fa A noi Perché possiamo davvero Beneficiare Della sua grazia Questo Non vale Per le altre forme Di preghiera È chiaro questo? L'altra cosa E Concludo Scusate L'ho visto qui Va bene Fermiamoci L'altro elemento Che fa la differenza Tra l'azione liturgica E le altre Preghiere O forme di preghiere È che La liturgia Ecco che È sempre azione Ecclesiale Non è mai un'azione Privata Va bene E quindi c'è Una differenza Sostanziale E radicale Tra le varie devozioni Bellissime Legittime Che però sono Devozioni private Anche se le facciamo insieme Sono sempre devozioni private Nel senso che Ognuno Appunto Partecipa Mentre invece È il soggetto Della celebrazione liturgica Non è mai il privato Ma è sempre La chiesa La comunità E la volta prossima Affronteremo proprio questa La dimensione ecclesiale Della sacra liturgia Va bene Anticipo ad esempio Quando Quando io Vado a fare la mia Adorazione personale Io dico Gesù Io credo in te Gesù io ti voglio bene Gesù aiutami Bellissimo Nella liturgia Non troverete mai Io Nella liturgia Non trovate mai Il pronome Io Trovate sempre noi E questo perché Perché il soggetto Non è l'io O certo Poi ci siamo lì personalmente Non è che Cancella la persona Però il soggetto È la comunità Ecco perché anche noi preti Non è che possiamo cambiare Ad esempio il canone A nostro piacimento Non abbiamo il diritto Perché è lì la preghiera Della chiesa E anche noi Obediamo Non abbiamo il diritto Di cambiare Come ci pare O Nella celebrazione liturgica Ci sono dei momenti In cui invece È lasciata al celebrante La possibilità Di intervenire In maniera un'altra Ad esempio Quando si fa l'introduzione Al padre nostro Io odio che uno Può fare l'introduzione In maniera diversificata Non c'è una formula fissa Va bene Così anche quando si Introduce l'atto penitenziale Non è che ci sia Una formula fissa Ma allora La Diciamo Il testo Della Messa Ti propone alcune formule Però il fatto stesso Che ti proponga Diverse formule Vuol dire che appunto C'è una pluralità Di possibilità Ok Detto questo Allora Ora possiamo Invece Concentrarci di più Abbiamo visto la differenza Ho marcato la differenza Tra l'azione liturgica E le altre azioni Che non sono liturgiche Però vi dicevo È indispensabile Anche la complementarietà Potremmo parlare anche Di correlazione Se effettivamente Come abbiamo visto La vita spirituale Non si esaurisce Nella partecipazione Alla sacra liturgia Allora vuol dire Che anche Le altre Azioni Della Chiesa E del cristiano Sono importanti Per una vita cristiana Più completa E se non esaurisce Vuol dire che c'è bisogno Anche delle altre Anche se non hanno La stessa efficacia Anche se non hanno La stessa importanza E quindi appunto Ci chiediamo Come valorizzare Il primato Della liturgia Senza Svalorizzare O sviluppare Scusate Senza Deprezzare Le altre forme Le altre attività Le altre forme Anche di preghiera E di vita cristiana Ecco La risposta È esattamente Quella che troviamo Al numero 10 Ecco Prendete il numero 10 E qui c'è la risposta Sul rapporto Che esiste E tra La liturgia E il resto Della vita cristiana Non di meno La liturgia È il culmine Verso cui tende L'azione della Chiesa E al tempo stesso La fonte Da cui promana Tutta la sua Energia Leggiamo pure tutto Il lavoro apostolico Infatti È ordinato A che tutti Diventati figli di Dio Mediante la fede E il battesimo Si riuniscono In assemblea Lodono Dio Nella Chiesa Prendono parte Al sacrificio E alla mensa Del Signore A sua volta La liturgia Spinge I feteli Nutriti Dei sacramenti Pasquali A vivere In perfetta Unione Priega Affinché esprimono Nella vita Quanto hanno ricevuto Mediante la fede La rinnovazione Poi Dell'alleanza Di Dio Con gli uom Nell'Eucaristia Introduce i feteli Nella pressante Carità di Cristo E li infiamma Con essa Dalla liturgia Dunque Particolarmente Dall'Eucaristia Deriva in noi Come da sorgente La grazia E si ottiene Con la massima efficacia Quella santificazione Degli uomini Nel Cristo E quella Glorificazione Di Dio Alla quale Tendono Come a loro fine Tutte le altre Attività Della Chiesa Allora qui dice Tutte Le attività Della Chiesa Ecco che Tendono E A questa Santificazione Degli uomini E glorificazione Di Dio Come dicevamo La volta scorsa Nello stesso tempo Però Ecco che Anche se Tutte Tendono a questo Il culmine È la liturgia Il culmine È la liturgia Vuol dire Che soltanto Lì noi possiamo Realizzare in forma Più piena È Che si dice Particolarmente Efficace Questa Santificazione Dell'uomo Salvezza Dell'uomo E glorificazione Appunto Di Dio Avete notato Che qui Di conseguenza Dice che Tutta L'attività Apostolica Mettiamoci dentro Tutte quelle attività Di cui abbiamo parlato Quindi L'annuncio La carità La preparazione I sacramenti I pie esercizi La preghiera Personale Dice Appunto Tutto è ordinato A questo scopo Che appunto Diventati figli Mediante la fede Il batteo Si riuniscano In assemblea L'odino Dio Prendono parte Al sacrificio Quindi Il punto di arrivo È l'Eucaristia Il punto di arrivo È l'Eucaristia Ecco il rischio È che invece Oggi come oggi Lo facciamo diventare Il punto di partenza Qui dice no È il punto di arrivo Va bene? O questo vuol dire Che quando noi Partecipiamo All'Eucaristia E Contrariamente A quello che a volte Si pende Non è che dobbiamo Lasciare fuori La nostra vita Fuori di chiesa La vita della settimana Fuori di chiesa Con le sue Se volete Con le sue sofferenze Dolori Ma anche gioia E esperienze belle Con tutti i gesti Di carità Le nostre preghi No Dobbiamo portare dentro Tutto Non si dica più Bisogna lasciare fuori Ma anche le preoccupazioni Portiamole dentro Lì trovano Esattamente Il loro significato Ultimo Perché unite Al sacrificio di Cristo Addirittura Diventano Il sacrificio gradito A Dio Diventiamo Un'unica cosa Col sacrificio di Cristo Che si offre Al Padre Capite che è una cosa Meravigliosa Però Attenti bene Che non è soltanto Il culmine A cui deve Tendere Tutto Attenti bene Che Armonizzarsi Armonizzarsi Con la liturgia E introdurre Il popolo Alla liturgia Permettete un esempio Se Ad esempio Uno Partecipa Continuamente Al rosario E Non partecipa All'eucaristia Vuol dire Che il rosario Non lo sta Conducendo Al culmine Dell'incontro Con Dio E' sbagliato E Se ad esempio Uno Ama L'adorazione Eucaristica Ma non partecipa All'acerbazione Eucaristica Sta sbagliando Va bene Perché Se è il culmine Vuol dire che Tutto deve Vertere Verso Questo culmine Però Attenti bene Che Sempre il numero Dieci Nel secondo Capoverso Dice Che non solo È il culmine Ma è anche La fonte È culmine È fonte E quindi qui ti dice Che cosa deve nascere E che cosa nasce Dalla liturgia Va bene Come da fonte La liturgia Spinge I fedeli Nutriti Di sacramenti Pasquali A vivere In perfetta Unione Oh Qui non è specificato Ma attenti bene Vediamo Se cita qualcosa Numero 19 La nota 19 E Tenti bene Che le note Dunque Vediamo se le troviamo Avete visto Sono andato a finire le note Ah ecco Grazie Bravi Vedete che servite a qualcosa La nota 19 Abbe il post comunio della veglia pasquale Va bene Possiamo comunque intendere Vivere in perfetta unione Con Cristo e con i fratelli Va bene E in secondo luogo Ecco che la liturgia Oltre che spingere I fedeli a questo E prega finché esprimono nella vita Quanto hanno ricevuto mediante la fede E poi dice che la rinnovazione Dell'alleanza Di Dio con gli uomini Nell'eucaristia Introduce i fedeli Nella pressante carità di Cristo E quindi ci rende capaci di amare Ci rende capaci di amare E le infiamma con essa Dalla liturgia dunque Particolarmente Dalle eucaristie Deriva in noi come da sorgente La grazia E si ottiene con la massima efficacia Quella santificazione degli uomini Del Cristo eccetera E allora dobbiamo domandarci E quando non ci sono Questi frutti Derivanti dalla partecipazione Alla messa Alla liturgia Che cosa è successo Per cui dice che Devono nascere questi frutti Che cosa è successo Forse che i sacramenti Non sono più efficaci Forse che non è intervenuto A Gesù Cristo Ecco la risposta La trovate Al numero 11 Ad ottenere però Questa piena efficacia È necessario Che i fedeli Si accostino A la sacra liturgia Con retta disposizione D'animo Armonizzino La loro mente Con le parole Con le parole Che pronunciano E cooprino Con la grazia divina Per non riceverla In vano Quindi qui dice Che se effettivamente Non raccogliamo il frutto Vuol dire che Non vi abbiamo Partecipato bene Va bene Non vi abbiamo Partecipato bene Non avevamo La retta disposizione Quindi dice Dicevamo delle parole Senza armonizzarle Col cuore Non abbiamo Collaborato La grazia Che c'è sempre E quindi L'abbiamo ricevuta In vano Ecco adesso Ritorniamo Alla frase iniziale Vanno a messa Ma poi sono peggio Degli altri Adesso possiamo Forse rispondere Dicendo Che Come avete detto voi Molto lo dicono Per giustificarsi Sì va bene Va bene Però Dietro quell'affermazione Criticabilissimo Secondo me C'è un'intuizione Meravigliosa Chi va a messa Non può essere Come gli altri A meno che Vi abbia Partecipato Senza le dovute Disposizioni E quindi Peggio ancora Perché ha commesso Un peccato Quindi L'aspetto positivo Di quell'affermazione Che ripeto Io stesso Critico Per l'aspetto positivo È che ti dice Guarda Che c'è un rapporto Stretto Tra Eucaristia E vita Se la tua vita Cristiana Di ogni giorno Non risente Della partecipazione All'Eucaristia Stai effettivamente Dando Controtestimonianza Stai Allontanando Dall'Eucaristia Perché Quelli che non vanno Beh certo Se andare All'Eucaristia Vuoi essere così Se quelli che vanno All'Eucaristia Poi Continuano a pettegolare Come tutti gli altri Parlano male degli altri Come tutti gli altri Non fanno la pace Con i vicini Come tutti gli altri Boh allora A cosa serve Andare a mess Avete notato Che qui dice Ecco che L'Eucaristia È culmine È fonte Se non è fonte Di una vita cristiana Diversa Vuol dire che qualcosa Non ha funzionato E non possiamo Dare la colpa a Dio Perché lui la garantisce La grazia Però Vuol dire che Non l'abbiamo ricevuta Va bene O dopo certo Non sono mai coerenti Al cento per cento E quindi Magari La testimonianza Non sarà così Però scusate Il fatto almeno Che chi va a messa Si renda conto E sia profondamente convinto Che ad esempio Deve fare la pace Con uno Che è sempre visto Come un nemico Questo è indispensabile Che ad esempio Uno che va alla messa Deve essere convinto Che deve smetterlo Di parlare male Degli altri Questo deve essere pacifico Dopo magari ci cadiamo Però deve essere convinto E poi Quando con qualcuno Io parlo E dico Ma guarda che io non parlo male Dico la verità E scusa Ma quando tu dici Un difetto degli altri Anche se è vero Stai parlando male Degli altri Stai portando in piazza Un difetto E questo è un parlare male Ecco perché Andare a messa Vuol dire che poi Noi impariamo un po' Alla volta Questo modo Di agire Della gente O si parla bene O si tace E guarda che a me Capita qualche volta Con delle persone Che vengono anche in canonica A dove intervenire In maniera anche abbastanza seccata E dire questo Non per piacere Almeno qui Non potete parlare male Degli altri Petteolare E dite No Qui no Ma neanche fuori Se imparassimo Ad esempio Anche nelle nostre case E perché Magari Non sarà per questo Però perché Qualche volta Anche i nostri I nostri figli Non sono proprio Così entusiasti Nell'andare a messa Certo c'è tutto Un mondo Che sta Giocando contro Una cultura Però Io penso che a volte Se si accorgono Che Il papà La mamma Vanno a messa Ma poi durante il pranzo Non fanno altro Che pettegolare Sulle persone Dico Boh Perché sono andati a messa Insisto sulle pettegolezze Perché secondo me È uno dei difetti più grossi Che ho trovato All'Eno Ecco Ecco Io ho finito Adesso lascio la parola a voi Ecco Allora vedete il titolo La liturgia Culmine Fonte della vita Della chiesa Rapporto tra liturgia E vita Per la paura di pettegolare Più nessuno parla Adesso Io ho l'abitudine Di sintetizzare Ciò che sento Stasera Credo che la differenza Ho scritto io Essere una brava persona Perché possiamo essere anche brave persone Comportarci bene Anche senza essere credenti Può essere una brava persona comunque E la differenza È essere una sacra persona Sacra Essere Nella propria vita La vita Diventare sacra Essere sacro In noi stessi Quello Quello che dici Ovviamente Porta con sé Qualcosa di vero Cioè Nel giorno Possiamo trovare Delle buone persone Anche tra i non credenti Ci vorrebbe anche quello E Oltretutto Attenti bene Che c'è Quella frase Meravigliosa De farci pensare Della prima lettra Di San Giovanni Dove dice Chiunque ama È nato da Dio E conosce Dio Perché Dio è amore Chiunque Cristiano o non cristiano Credente o non credente Chiunque ama Ovviamente Ama veramente Nel senso che Non è L'andare a letto Ama Che si sacrifica Senza La pretese Di avere un tornaconto Vuol dire che Effettivamente È nato Cioè vuol dire che Dio ha l'opera Dentro di lui E questo va benissimo Però attenti bene Che l'appartenere Alla chiesa È un'altra cosa Quindi saranno buoni Ma non appartengano Alla chiesa Ecco noi stiamo parlando Di chi invece Intende Essere chiesa E quindi questo è importante Perché altrimenti La liturgia Dice riferimento alla chiesa Quindi non stiamo giudicando I non credenti Ma non giudichiamo neanche Quelli che non vanno a messa È Dio che giudica Certo Io posso dire Che se uno Ha ricevuto il battesimo Ha fatto la scelta cristiana E ha fatto la scelta cristiana Perché La maggioranza è battezzata Senza aver fatto la scelta cristiana Non lo fa mai Però se uno ha fatto la scelta cristiana La coerenza vuole E che Appunto Uno partecipi Allora All'eucaristia E lì Non soltanto porti Il suo desiderio Di essere buono Una brava persona Che si consacra A Dio Ma da lì Riceva anche la forza Per poterlo vivere Perché da soli Non ce la facciamo Io invece penso Che ci sia anche Un'altra chiave di lettura Dietro a questa frase C'è qualcuno Che ha la presunzione Di pensare Perché va a messa Sia migliore degli altri E invece Secondo me Non basta andare a messa Per essere di buoni cristiani Ci vuole altro E anche questo Ci fa riflettere Qualcuno che va a messa Ha la presunzione Di essere migliore degli altri Teoricamente Niente dovrebbe esserlo Però avere la presunzione Non è bello Altri? Ehi So che tu hai qualcosa da dire Vuoi far a saperlo? Io volevo farle una domanda Come è strutturata la preghiera La preghiera per In modo che possa partecipare Le varie tradizioni liturgiche Scusate Aiutemi a capire cosa Cioè La preghiera Non è strutturata In se stesso Come Come la vediamo noi Cattolici Ma tiene conto Delle altre tradizioni Liturgiche Ah capito Di tante tradizioni liturgiche Ok Come quindi Il sacerdote Che è l'uomo Dallo spirito Della parola E della divina liturgia Finito Basta Finito Quando leggerete La Sacro Santo Un Concilium Affronta questo Questo tema Per il fatto che La Sacro Santo Un Concilium È ovviamente La costituzione Sulla Sacra Liturgia Per la Chiesa Cattolica Ma dice Scusate Che prima di tutto Già nella Chiesa Cattolica Ci sono diverse forme di riti E quindi anche di liturgie E dice che vanno rispettati Perché riconosciuti Oltretutto Dalla Santa Sede Hanno valore E quindi Anche se Uno celebra Anziché Il rito romano Celeba secondo il rito Ambrosiano A Milano Sta celebrando Uno celebra Nel rito Invece Diciamo Mozzarabico Va bene Quindi ci sono diversità di riti E Nello stesso tempo La Chiesa riconosce Valore Ad esempio Anche Alle celebrazioni liturgiche Che vengono celebrate Ad esempio Secondo il rito Ortodosso Riconosce Quella è messa E quello è un altro Discorso dell'ecumenismo Però effettivamente Riconosce Che è valido il battesimo Che è valida Le Eucaristie Che sono validi Sacramente Della Chiesa Ortodossa L'unico L'unico Potrebbe essere vissuto Senza diventare motivo Di divisione Quindi rimane Però forse il modo in cui viene Vissuto Realizzato Potrebbe essere Magari rivisto Vado appena appena fuori Però mi veniva da pensare Al fatto Che forse Tante volte Non capiamo Il valore Della liturgia Proprio perché Ce l'abbiamo Troppo disponibile Nel senso Mi spiego Mi è capitato Di andare a messa All'estero Dove devono fare Centinaia di chilometri E La vivevano Più Più Stessa roba L'ho provata io Dopo la Quando dovevamo Seguire la messa La televisione Perché non si poteva Non mi faceva il problema Sono migliore Sentivo proprio Il bisogno La prima volta Che ho potuto fare Una celebrazione Fatta come si faceva Quindi Forse Non Capiamo A pieno significato Perché ce n'abbiamo Troppo Cioè Dovremmo Conquistarcela Questa Beh Potremmo Sia anche così Effettivamente E Anche perché Ti ringrazio Anche perché Visto che Tutto sommato Il parteciparvi Non è proprio Un grande impegno Cioè E' abbastanza comodo Dobbiamo fare Chissà quanti chilometri Non dobbiamo fare Chissà Superare Chissà quali difficoltà E Proprio perché E' abbastanza comodo L'accesso Il rischio poi E' quello Dell'abitudinarietà Cioè Uno si abitua Non lo vive più Come se fosse Appunto qualcosa Di eccezionale E diventa una cosa Abituale Invece dovrebbe sempre Mantenere La dimensione Eccezionale Perché è una cosa Straordinaria Non è poi così Ordinaria Ecco Della messa Perché la messa È un valore Inestimabile Non si va a messa Così tanto Per Anche se uno va Tutti i giorni Ma però se Parlo per me Do importanza Perché la messa È un valore Per me è un valore Che mi aiuta Mi aiuta Io trovo forza Andando a messa Voi sapete che Proprio per questo Gli ultimi due incontri Sanno proprio sulla Celebrazione Eucaristica E quindi Proveremo ad approfondire Alcuni aspetti Vuoi aggiungere qualcosa Alberto? Ecco Se non avete altro Possiamo fermarci qui Ah Vedi che adesso È venuta un'altra domanda Ecco Quando facciamo la messa Ti dico il perché Il presidio Baccia l'altare Così vieni fino alla fine Va bene Ecco Allora ci alziamo Per l'intercessione Della Beata Vergine Maria E di tutti i Santi Vi benedica Dio Ogni potente Padre e Figlio E Spirito Santo Amo Arrivederci A mercoledì prossimo Allora Quelli che vogliono Prendersi il libretto Lo possono prendere Se vogliono Danno due euro Invece gli altri Potete anche metterli qui Eh ma